Amici e amiche di RBA, buon pomeriggio a tutti e a tutti, siamo a Pinerolo, siamo nel centro storico della città dell'artigianato, Artigianato Pinerolo 2023. Ultima giornata di questa rassegna, giunta la 47esima edizione intitolata al grande Italo Calvino, le città invisibili. E noi stiamo andando a scoprire in realtà se davvero questa città di Pinerolo è invisibile, come rendere visibili le tante attività, le tante realtà di questa città di Pinerolo e del Pinerolese. Abbiamo parlato di formazione, abbiamo parlato di nuove strade che può dare la formazione come ad esempio il CFQ, il CIS che dà la possibilità alle persone disabili di poter creare, di poter vivere dignitosamente attraverso il proprio lavoro. Abbiamo avuto anche il piacere di parlare dell'urgenza, di cosa ci porta a creare nonostante ci occupassimo, ci occupiamo di altre cose, in altre realtà abbiamo un lavoro fisso ma abbiamo bisogno di creare, avere una propria bolla creativa che abbiamo avuto modo di affrontare, di dialogare con le persone, le nostre amiche di mani creative. Abbiamo il piacere adesso di ospitare con noi, non solo i nostri vicini, anzi in realtà siamo andati quasi, anzi senza quasi, siamo andati a occupare la loro vetrina ma noi con molto piacere abbiamo, io insomma, primo insomma ho il piacere di ritrovare Luigi Oddero. Ciao Luigi! Ciao! Ben arrivato! E con te c'è tua moglie Rita Curletti, buongiorno Rita, vicino al microfono, perfetto così. Allora, sono tanti progetti che vi riguardano e c'è molto artigianato, io direi c'è molto artigianato, Rita stessa ha un oggetto meraviglioso realizzato a mano, non è l'unico tipo di oggetti che realizza Rita perché so che si occupa anche di costumi e di molto altro, ne parleremo tra poco. E anche il teatro Luigi è artigianato, vero? Certo, certo. Da quanti anni? 45 anni. Di compagnia del piccolo varietà? Di Pinerolo. Teatro dialettale? Sempre teatro dialettale, abbiamo iniziato 45 anni fa con delle scenette e poi man mano ho cominciato a scrivere commedie, attualmente ho 25 commedie e una decina di atti unici che continuano a girare per il Viemonte, non solo presentati dal piccolo varietà ma di molte altre compagnie piemontesi. Benissimo, quindi una soddisfazione per vedere l'idea trasformarsi poi in azione, in azione scenica ed è meraviglioso. Anche questo è artigianato, com'è? È artigianato creare le scenografie, creare i costumi. Chi è che ti dà una grossa mano? Mi dà una grossa mano mia moglie. Mia moglie, sì, sì, sì. Quindi Rita, realizza i costumi a mano, proprio ad persona, ma per ogni attore, per ogni attrice? Sì, diciamo sì, che sono personalizzati. Più che altro li faccio per la maschera di ferro, perché per il teatro insomma tanti... Vengono poi utilizzati in altre occasioni. E arriviamo anche alla maschera di ferro, una delle attività insomma che ti riguarda e vi riguarda da vicino Rita e Luigi. La maschera di ferro celebra un racconto mitico insomma che riguarda Pinerolo e il Pinerolese. La maschera di ferro è una manifestazione, lo diciamo a chi appunto non conosce appunto questo evento, questa manifestazione che aggrega. A me piace, vorrei ecco, sottolineare con te questo aspetto. Sì, l'aggregazione innanzitutto, perché sono anche qui oltre vent'anni che abbiamo formato, è dal 1999, per cui sono molti anni. E l'aggregazione è molto importante, è molto importante perché i personaggi che sono entrati già dall'inizio, esclusi quelli che purtroppo non ci sono più perché sono mancati, sono ancora tutti presenti nell'associazione. E questa è una cosa molto importante. Come anche nel piccolo varietà. Quelli che hanno iniziato con me 45 anni fa, tuttora sono ancora attivi, tant'è che nell'ultima commedia che stiamo portando avanti, che è quella, Tanfracass per niente, ed era una delle prime che ho scritto, ci siamo ritrovati tutti quanti in questi giorni e abbiamo una ventina di spettacoli programmati per questo. A me ricorda un po' il Motto Rumore per Nulla, Tanfracass per Niente, il mio piemontese è peggio dell'italiano, scusate, non volevo osare tanto parlando in piemontese, però un altro aspetto importante, Luigi, poi ovviamente coinvolgiamo anche la vita, riguarda il pubblico. Io so che il teatro piemontese dialettale, ma come un po' in tutta Italia, il teatro dialettale è davvero un'istituzione, è una parte importante a livello culturale, perché anche in questo caso aggrega e soprattutto permette di riscoprire il piacere del teatro, il piacere della messa in scena, il piacere di vivere questo rito della commedia e del teatro. Sì, guarda, come ripeto, 45 anni, all'inizio quando ho portato in scena le prime commedie, qualcuno diceva è bene, avrai per due o tre anni, poi muoiono queste persone più anziane, non ci sarà nessuno. Invece no, invece no, 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 no. Poi sai cos'è bello? Che io organizzo questa rassegna di teatro dialettale città di Pinerolo da ben 37 anni, 37 edizioni, e il pubblico che viene a fare l'abbonamento, poi si ritrova di anno in anno e si è creato anche tra noi e il pubblico una sinergia, per cui è bello anche in questi giorni che ero qui trovare delle persone. Quando è lei che comincia e che ci ritroviamo? Quando parte la rassegna Luigi? La rassegna parte il 21 di ottobre e si protrae fino a fine novembre. Ok, quindi un paio di mesi, un mese? Un mese e mezzo, sono sei spettacoli, sono sei spettacoli. Benissimo, allora poi parleremo, daremo tutte le indicazioni per scoprire anche questa parte dell'artigianato quello legato alla creatività e al teatro. Maschera di ferro, Luigi, maschera di ferro, un evento insomma che è diventato ormai celebre, anche questo è un punto di riferimento. Ogni due anni si tiene, ma mi hai detto poco fa fuori onda che il primo ottobre ci sarà un evento, un appuntamento. Si tiene ogni due anni, quest'anno abbiamo fatto l'8 luglio una breve piccola manifestazione a Fenestrelle che è stata molto apprezzata al forte di Fenestrelle per la strada dei forti, organizzata anche dal comune qua di Pinerolo e con il comune naturalmente di Fenestrelle e poi il primo ottobre ci sarà la messa solenne alle ore 10 qui nella cattedrale con un centinaio di personaggi in costume. Benissimo, quindi i costumi, e qua entro in scena Rita, i costumi della maschera di ferro. A cosa ti sei ispirata? Io mi ispiro ai dipinti, quindi vado a fare una ricerca e poi dopo chiaramente metto del mio anche perché secondo la perso maneria che trovo e tutto quanto. E poi li realizzi in base alla persona che poi interpreterà? Certamente, anche quando poi viene scelto il personaggio appunto nuovo per la maschera di ferro allora mio marito mi dice riuscirai a fare questo e io metto tutto il mio impegno e faccio. Ma tu lasci la creatività a Rita, vero? Certamente. Lo so che sei un regista, però... No, ma tieni presente che tutti i personaggi famosi che ci sono stati dietro è sempre lei che li veste, quindi ha anche questo onore. Diamo dignità a chi lavora dietro le quinte delle compagnie di teatro, della maschera di ferro, di tutti questi progetti. Prima, insomma, di salutarci, hai un oggetto con noi, ecco che cercheremo anche di descrivere a chi ci ascolta in radio. Posso Rita? Lo tengo in mano io. Allora, questo è uno degli oggetti che trovate nella vetrina, in questo momento alle nostre spalle, qua in via Trento Angolo, via Principi, da Caia. Insomma Rita, stare con le mani in mano? No, non c'è... Non solo costumi. Quando la maschera di ferro è in stand-by, quando il teatro deve ancora iniziare, insomma, ti occupi di queste creazioni? Sono delle... insomma, come possiamo dire? C'è una base sotto con carta pesto a ferro, poi viene foderata con una carta adesiva, dopodiché, quando l'oggetto mi piace, perché è tutto completamente fatto a mano, lo rivesto con la corda. Perché la corda come oggetto? Non so, mi è venuta questa cosa... Così? Per avere qualcosa di nuovo, perché io ho notato che... Bello, bello, devi creare, devi creare. Quindi, allora, per chi ci ascolta in radio, non può vedere in questo momento questo oggetto, ovviamente vi invitiamo a raggiungerci qua all'artigianato Pinerolo. E' un oggetto meraviglioso, innanzitutto perché è fatto a mano, unico. Sono tanti oggetti di questo tipo, ho visto dietro di noi, nella vetrina, e insomma, sono realizzati tutti con questo... c'è molta leggerezza in questi oggetti. Sì, io devo dire, ho cominciato a fare angeli, perché io ho perso una figlia, e quindi mi ispiravo... E' stato un modo, insomma, per ricordare questo oggetto qua. Quindi, la creatività, Luigi, per chiudere la nostra chiacchierata. L'urgenza di creare, avere la possibilità di poter essere altro. L'artigiano è anche questo. La persona che realizza per il proprio benessere, per la propria soddisfazione, strappando il tempo alla famiglia, cercando di realizzare qualcosa per sentirsi bene con se stesso e se stessa. Essere creativi è anche questo, secondo te? E' altro. Certo che è creatività, è creatività perché, a parte il fatto personale, perché naturalmente ci sto delle ore al computer a scrivere, i primi tempi con la macchina da scrivere, per cui pensa... Quanta poesia con la macchina a scrivere! Però il fatto di scrivere e pensare, poi magari una sera che sono a casa, che magari in certi teatri del Piemonte o anche le mie commedie sono state anche rappresentate in Lombardia, rappresentate nel Friuli Venezia Giulia, pensare che c'è gente che ride, sorride per quello che io ho creato, beh, questa è una cosa che è molto gratificante. Quindi regalare leggerezza per quell'ora o mezza di spettacolo è una grande soddisfazione. Sì, tu hai detto una cosa prima che veramente ho apprezzato, che è quello che vorresti creare dei video, delle commedie, dei filmati, ecco, per poi portarli nelle case di riposo. Ecco, noi anni fa andavamo molto nelle case di riposo, prima del Covid, no, nelle case di riposo, e con i nostri spettacoli in Piemontese abbiamo portato la felicità a tante persone, ma a molte persone, per cui penso che quello che tu hai intenzione di fare sia molto gratificante. Come RBA, insomma, uno dei progetti che vorremmo fare, insomma, abbiamo parlato fuori onda di questa possibile attività che, insomma, riguarda un vero mondo, che è quello del teatro dialettale. Teatri pieni, non solo nel Piedero Lese, ma io so anche dell'esperienza del Saluzzo, di Saluzzo nel teatro Olivero pieno, di persone che vanno ad assistere e che tornano a vedere la stessa commedia più di una volta. Quindi non è come andare a cinema, eh, ma l'ho già vista questa commedia qua. Andiamo, torniamo al teatro, è vero? È vero. E poi, soprattutto, l'artigianato. E chiudiamo così la creatività che ci permette di creare un nostro mondo e ci permette di essere un po' più leggeri. Un po' più leggeri e non pensare alle cose brutte. È vero. Io vi ringrazio. Vi ringrazio per l'ospitalità perché ci avete permesso di essere qui davanti appunto al vostro punto, all'artigianato Pinerolo, alla vostra vetrina. È stato il piacere poter ricordare la maschera di ferro. Ricordiamo, primo ottobre, appuntamento al Duomo di Pinerolo. E poi andate a teatro. Andate a vedere il teatro dialettale per la 37esima rassegna del teatro dialettale. Anche questo è artigianato al teatro incontro a partire dal 21 di ottobre. Luigi Oddovero. Grazie. E Vida Curletti, grazie per essere stati con noi su RBA. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.